6... 6... 3... Papini! Due atleti! Ecco, due a 1! Un braccio a fuori di Trabusco! Vai Fede, vai! Passano quasi contemporaneamente sul chiedimice, vediamo il passaggio al reguardo all'altezza numero 935 Cinquecento Siamo Un 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 No, ho consegnato solo quello di domenica. Quello di domenica schiene, guarda noti sul bracciato e in questo momento la sento sulla 20, la 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 20. No, ho scoperto, ho scoperto, ho scoperto, ho scoperto. No, ho scoperto, 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 ho scoperto. Buongiorno a tutti. E l'hanno passato sul doguardo con il tempo di 19-16.